a casa a casa sarri a casa tu la lazio tutti se ne vanno tanto scusate fatemi mettere per bene la telecamera scusate anche per questa barba questi capelli un po così ma sono quasi 20 giorni che vivo come un barbone visto che sono positivo al covid 19 tranquilli sono asintomatico speriamo di guarire presto comunque non parliamo di covid che già ci tartassano tutti i giorni con le televisioni telegiornali eccetera a casa grande vittoria grandi tutti l'inter che vince per 3 si per 3 magari per 2 a 1 contro la lazio è evitato di vincere anche 3 a 1 perché ragazzi quel fuorigioco di lautaro è ridicolo cioè veramente ridicolo io ancora devo capire com'è in fuorigioco lautaro cosa c'è la maglietta in fuorigioco una mezza spallina ma neanche secondo me quindi sinceramente un fuorigioco che vabbè secondo il VAR c'è quindi ok c'è hanno visto praticamente questo pezzettino qui in fuorigioco e quindi ok fuorigioco vabbè comunque vinciamo per 2 a 1 con una partita sontuosa sontuosa spettacolare di bastoni 2 ha fatto un gol incredibile e ha fatto anche l'assist per il gol di Skriniar che Skriniar I love you ti amo sei troppo forte loro non hanno mai e ripeto mai 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 tirato in porta mai perché quel tiro di immobile dove praticamente ci ha fatto un tiro sulla nostra dormita difensiva perché non si aspettavano che visto quando l'arbitro fa il gioco a 2 per ridare il pallone a Lazio la Lazio non è che l'ha data indietro da subito messa ha fatto un lancio dove devrai guarda chi ci va ci vado io no ci vai tu ci va Andanovic Andanovic esce a caso vabbè e immobile si ritrova solo contro niente fa un passaggio in porta e segna l'unico tiro della Lazio l'unico tiro della Lazio hanno fatto un tiro in porta noi li abbiamo massacrati una parata al primo tempo di Strakosha incredibile non sa neanche lui per me non sa neanche più come si chiama Strakosha ha fatto una parata incredibile primo tempo poi al secondo tempo diverse parate meritiamo di vincere tranquillamente 3-4-1 ma proprio tranquillamente eh a mani basse ragazzi una squadra pietosa pietosa di tutto quello che mi pare pietosa godo tantissimo comunque godo tantissimo proprio sentire qua il godimento perché i milanisti che già esultavano ah ragazzi vi do un'ultima ora se non lo sapete se l'Inter non gioca più una partita in campionato il Milan vincione ho scudetto eh questa è un'ultima ora che vi do perché loro si vantano di essere si vantavano di essere prima più due nonostante noi avevamo due partite che non abbiamo giocato quella di stasera e quella contro il Bologna che ovviamente di lì tutti quanti i Tarde di Udine eccetera hanno fatto giocare le proprie squadre le squadre insomma del territorio invece di Bologna no ok l'ASL di lì ok però l'affare della distinta no di lì è un errore una svista è anche quello facciamo bypassare anche quello l'ASL che comanda l'ASL che non deve comandare su questo fatto cioè deve comandare sì ma c'è un regolamento l'ha messo il governo che la quarantena per chi ha la terza dose non la deve fare secondo loro non aveva nessuna terza dose vabbè ok è vero sarà vero sicuramente però hanno presentato la distinta quindi dovevano presentarsi è stato un errore e ve la prendete nel culo scusate i termini dovete perdere a tavolino io ma se l'hai presa a vittoria a tavolino non è che mi frega un cavolo che dopo le dicevano vincete solo a tavolino no in realtà vinciamo sempre perché abbiamo fatto 8 vittorie di fila non è che ci spaventa il Bologna però se c'è un errore grave come presentare la distinta non presentarsi al campo dirgli devi dare 3-0 a tavolino punto vabbè ce la andiamo a giocare così la vinciamo sul campo come si deve e si ezzittano tutti poi parzi che la pareggiamo la perdiamo non lo so però intanto ce la andiamo a giocare questo è sicuro comunque niente parlando della partita di oggi ragazzi ve l'ho detto è stata una partita dominata non c'è da dire granché praticamente abbiamo dominato sempre non c'è mai stata partita se oggi pareggiavamo questa partita mi sarei incazzato tantissimo primo perché l'arbitraggio è pessimo pessimo cioè primo tempo calcio d'angolo all'ultimo secondo per l'Inter non l'ha fatto battere il secondo tempo calcio d'angolo all'ultimo secondo per la Lazio ha fatto battere io penso che se ci segnavano su quel calcio d'angolo a tempo scaduto dove a noi non ci ha fatto battere non si sa per chi a Lazio ha fatto battere questo video sarebbe stato un super iper mega sfogo tipo quello di Orsato tipo perché pareggiare contro sti scarsi anche no ma anche no con allenatore scarso parlamoci di Carlo io ragazzi pensare a quest'estate c'era qualcuno che voleva Sarri al posto di Inzaghi io mi incazzo come una bestia Sarri il sarrismo mamma mia Inzaghi con la stessa squadra la Lazio faceva scintille questo con la stessa squadra fa schifo ragazzi fa schifo è una squadra pietosa bisogna essere chiari è una squadra pietosa pietosa e c'era chi voleva Sarri all'Inter mamma mia se lo tenessero 100 anni io mi tengo 100 anni Simone Inzaghi tutta la vita Simone Inzaghi comunque beh vi saluto vi ringrazio sempre forza l'Inter lasciate un mi piace un commento un'iscrizione canale se ancora non l'avete fatto mi scuso ancora per questo look un barbone questa barba lunga non ce l'ho mai avuta ma ho deciso di tagliarla quando uscirò dalla quarantena quando sarò guarito da questo cavolo di covid speriamo presto cioè guarito negativizzato perché più o meno penso di stare bene vi saluto se avete forzamento lasciate un mi piace un commento ci vediamo mercoledì per il post partita speriamo così di Inter-Juve finale di Supercoppa alla Juve mancheranno De Ligt Quadrado e Chiesa mi raccomando testa cuore e andiamoci a prendere la Coppa a mano grazie a tutti